Musica Buonasera, buonasera amici sportivi, ben ritrovati all'appuntamento del lunedì sera di questo ciclo 2021-2022 di A Tempo di Atletica, la tredicesima puntata stagionale, una di quelle puntate divise in due parti, prima parte con la Virtus Ducca, poi gli amici, gli atleti, dirigenti del gruppo podistico Parco Alpi-Apuane che avremo appunto nella seconda parte. Vado a salutare e torna da noi, mi diceva dopo qualche anno, probabilmente eri proprio ragazzino, Filippo Sodini, buonasera Filippo. Buonasera a tutti. Qui va bene, non arriva da lontano perché seguì Di Lucca, ci hai messo due minuti per arrivare questa sera, ma sei venuto in macchina o di corsa? In macchina, in macchina. Allora figlio, quando sei venuto l'altra volta qui da noi in studio? Praticamente erano quasi due anni fa, credo. Ah vabbè, non eri proprio un ragazzino, eri già un giovanotto, dai. Sei da 16 anni. No, ho sentito in queste sere che si è perso il modo di definire i giovani giovanotti, ma la parola stessa, no? Ti induce giovane, giovanotto, vabbè. 2002, sei un 2002? 2002. Quindi hai 20 anni ancora da compiere, immagino? Sì, a novembre. Ah vabbè, a novembre, quindi c'è ancora, quindi sei appena poco più che il 19. Senti, io vorrei partire proprio a tambur battuto con te, perché sull'attualità, che abbiamo una foto appunto di Filippo Sodini, perché questo ragazzo ieri, gara domenica, insomma ha fatto un bel risultato, anche se so che quando si va a correre, allora questo è il podio, tu sei quello a sinistra, se non sbaglio, che vuol dire che sei arrivato secondo. Allora raccontaci un po' intanto dove eri e cos'è successo. Allora, era una gara che si svolgeva ad Arezzo, era la quarta prova del Grand Prix, era un cross corto, quindi tre chilometri. Categoria promesse, no? Categoria promesse, scaricciato insieme comunque con gli assoluti, e sono arrivato appunto secondo di pochissimo purtroppo, secondo dal mio compagno di categoria. Siete arrivati in volata. Sì, esatto, Edoardo Tesi, e vabbè, di pochissimo. Come è andata la corsa? Lui è partito, diciamo, forte, no? Praticamente sì, siamo partiti tutti forte, poi dopo ci siamo un po' smistati tra di noi. Siamo sgranati. Siamo sgranati, ecco. Lui è andato più avanti, poi dopo è andato quasi 200 metri, 150, successivamente poi è recuperato comunque, e negli ultimi 100 metri siamo trovati a testa a testa, e di poco mi ha superato via in volata. Sì, vedi, ti ha bruciato in volata, probabilmente lui essendo avanti forse aveva gestito, si era tenuto qualcosina nel suo ribattore, mentre tu per andarlo a riprendere, ma c'è più soddisfazione o un pizzico di delusione? No, vabbè, soddisfazione c'è comunque, però, vabbè, c'è quel rimorso di quel pochino che potevo dare di più che... Siamo partiti dall'ultimissimo, proprio roba di poche ore fa, Filippo Sodini, ma di Filippo Sodini vogliamo ricordare, insomma, che tu alla Virtus mi sembra di capire da parecchio tempo, un po' tutta l'altra fila, qui parliamo di corsa campestre, ma non solo corsa campestre, immagino quando si parla di Virtus si parla inevitabilmente di pista. La Virtus da quanto, tanto, per cominciare? Dalla quarta elementare, quindi... Parliamo di una vita fa, dieci anni fa. Eh sì, praticamente, quasi 10. Hai, voglio dire, studia ancora, visto che hai quasi... No, mi sono finito il diploma a giugno. Quindi ora non hai preso l'università, no? Ho capito. Quindi tutta l'altra fila nella Virtus. Tu sei un mezzofondista, ora, di là del... Chiaramente, mezzofondista. In pista, quali sono le tue distanze di riferimento? Allora, fino alla categoria junior, ovvero fino a gennaio scorso, ho sempre fatto 3.000, mi sono puntato su quello e ho raggiunto anche qualche buon risultato. Comunque ho fatto il minimo per i campionati italiani a Grosseto, che però purtroppo mi mi sono infortunato, ho appena fatto il... Parli del 2020 o del 2021? L'anno scorso, via. L'anno scorso. Mi sono fatto... Hai fatto il minimo, quanto hai... Ho fatto il minimo, 8.54. Eh. E poi che è successo? E praticamente la gara si svolgeva di domenica, il lunedì mi sono svegliato con un problema al piede. Accidente. Che poi in successione ho scoperto che era una fascita di plantare e sono andato a stare fermo tre mesi e anche gli italiani... 21 è... Esatto. Diciamo è andato un po'... Esatto. Mi veniva un'espressione che alle 21 poco più di sera non posso... Però avete capito, è andato un po' così, rovinato. Esatto. Eh? Però sei talmente giovane che insomma... Vabbè, ci saranno altre occasioni spero. Ma direi di sì. Senti, chi ti segue lì? Allora, mi seguono due... Enrico Carelli, no? No, mi segue Gloria Marconi e Maurizio Lorenzetti. Accidenti. Eh già. Beh, insomma, due nomi mica da poco. Gloria Marconi... Eh, beh, insomma, due atleti che... Da gennaio scorso, quindi non hai neanche tantissimo. Da gennaio. Che saluto, tra l'altro. Eh sì, no, no, se ci stanno seguendo io... Pensa, no? Tu sei talmente giovane. E pensa quanto io sono meno giovane. No, Gloria e Maurizio sono sempre giovanissimi. Io l'ho visti correre. Eh. Quindi, no, ma hanno smesso l'altro giorno, quindi... Beh, penso che hai, insomma, due... Chiamiamoli pure due maestri, due... Due maestri... Insegnero tanti, diciamo. Eh? Eh? Quindi, vabbè. Senti, la Virtus cosa, diciamolo sinceramente, cosa rappresenta per te? E mentre pregherei Gian Piero Pucci di preparare le foto quelle di questa ragazzina, di questa Senesi, non so se ne hai sentito parlare, che adesso diremo quel che ha combinato alla Cinque Mulini. No, eh, il Pucci ce la manda subito e quindi io ne devo parlare. Allora, queste sono alcune foto che abbiamo di questa ragazzina, perché parliamo di una ragazzina della categoria allieve, che alla classica Cinque Mulini di San Vittorio Lona, veramente una classica per antonomasia, insieme al campaccio, no, della corsa campestre, la giovane atleta, lei allenata da Enrico Carelli, si è piazzata al settimo posto nella prova riservata alle allieve. Qui la vediamo appunto con Enrico Carelli e quindi dobbiamo fare complimenti a questa Marina Senesi, brava, brava, perché quando ci si piazza, diciamo, in una top ten, in una corsa come questa è, insomma, sempre direi, no? Certo. Un ottimo risultato. Senti, cosa rappresenta per te la Virtus.duca dopo dieci anni e più che ci sei? Ormai è una famiglia praticamente, possiamo definirla, perché mi ha sempre supportato, anche Matteo Martinelli, comunque è sempre stato, c'è sempre stato per me anche per questo infortunio che ti parlavo prima, mi ha sempre comunque supportato anche a livello, a livello economico, ma anche a livello, ciò può, sì, insomma, psicologico, ecco. Non ti veniva la parola. Psicologico, no, no, questo è fondamentale, è un po' quello che abbiamo detto tante volte, no? Il concetto che ora pare di, pare anche di esagerare, ma poi lo riscontriamo tutte le volte che facciamo questa trasmissione, la facciamo ormai da diversi anni, il concetto di quasi di una seconda famiglia, no? Esatto. Per voi atleti, la realtà è quella. Cosa significa invece adesso avere un impianto nel panorama generale di una provincia di Lucca, dove per quanto riguarda gli impianti sportivi siamo messi non male, peggio? No, cosa significa invece la Virtus in questo momento è un po' un'isola felice, per fortuna, cosa significa avere adesso un impianto come quello del Moreno Martini, dove immagino pure ti allenerai spesso, no? È un bel passo in avanti comunque perché si possono fare comunque allenamenti su pista, su una pista migliore comunque rispetto all'altro. L'altra era diventata, possiamo dirlo, improponibile, no? Esatto. Adesso comunque ci possiamo allenare tranquillamente, anche per una pista più morbida, ci sono magari anche meno infortuni in futuro, speriamo. No, 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 ora è chiaro che poi l'infortunio ci può stare, no? Indipendentemente da tutto, cioè ti può allenare, non lo so, adesso non mi viene in mente quello che può essere l'impianto più bello al mondo, quello che può essere Wimbledon dell'atletica, però è chiaro, no? Mi viene in mente il Lezicru di Zurigo dove c'era questo fantastico meeting estivo, no? Comunque tutte le prove anche dell'atletica mondiale, no? Uno si può correre, può allenarsi in impianti perfetti e poi magari purtroppo l'infortunio può avere, ma è chiaro che se ci si allena o si provava ad allenarsi in una pista come quella che avevamo fino a un paio d'anni fa al Campo Coni, Moreno Martini, cioè diventava la grande fatica era cercare di evitare, di prendere qualche cratere che c'era, no? Tipo quelli lunari. Senti, quali sono i progetti di Filippo Sodini per questo 2022, al di là di questo bel risultato comunque che ha ottenuto ieri ad Arezzo? Comunque mi sto sempre un po' riprendendo l'infortunio perché comunque ho iniziato a settembre e un po' ci vuole, comunque quest'anno proverò comunque a affrontare le siepi. Ah, questa è una notizia bella che ci dai, siepi, grande distanza, grande disciplina. Grande distanza, anche di Maurizio che mi spinge proprio a farla. Ti sta spingendo per le siepi. Sì, e comunque persisterò comunque anche con i 3.000 normali, piani e i 5.000. Quindi ti proietti anche su una distanza. Ma come spunto veloce, ieri hai perso in volata, ma probabilmente la corsa è stata condizionata dal fatto che l'altro tesi, che se ci stesse seguendo salutiamo, è stato molto bravo e si è rattenuto qualcosa. In volata come siamo messi? In volata fino all'anno scorso bene. Si è messo bene? Sì, sono messo abbastanza bene. Perché quella tua, dei 3.000, anche siepi, è una distanza dove bisogna avere anche lo spunto, se no arrivi sempre dietro. È vero. Senti, è arrivato Kip Circir, quel nome che Matteo Martinelli non voleva pronunciare in uno discorso. Albert Kip Circir, che è uno che ha 8,37 su 3.000. Beh, insomma, tu 3.000 siepi non li hai mai provati. 3.000 siepi mai fatti. Mai. Però è un'idea interessante, diciamo. Cos'è che ti intriga di questi… Ricordiamo che il 3.000 siepi, solo in assoluto, lui ora è molto giovane, ma forse lo sa anche lui, nel panorama di un'atletica leggera italiana che nel 2021 ha vissuto cose fantastiche, però andando indietro nel tempo, la distanza del 3.000 siepi è una di quelle distanze, una di quelle discipline, specialità, diciamo specialità, che ci ha dato le maggiori soddisfazioni, da Panetta a Scartezini, Lambruschini, cioè voglio dire, gente che è stata al top a livello mondiale. Cos'è che ti intriga la riviera dove ogni tanto qualcuno finisce dentro? Cos'è che ti intriga? Allora, ai tempi mi ha sempre spinto quell'idea, non so se conosci i ragazzi, si chiama Saïd Etachi. Accidenti. Che salenava con me, con Martina Celi e quando ero piccolino, vado sempre a fare… Saïd, certo. Comunque a preparare anche le siepi, mi è sempre piaciuto. Poi comunque ho provato due anni fa, scusami, le 2.000 siepi, che erano da junior, il primo anno mi fa. Quindi hai provato? Sì, comunque 2.000. Ma hai provato in allenamento? Sì. Insomma. Che sensazione, non è facile. La prima è sempre difficilissima. Sai che vai a fare una distanza e una specialità tra le più difficili e per questo tra le più affascinanti. Certo, comunque è sempre una prova di resistenza, più dei 3.000 piani, però comunque deve averci quell'attimo di velocità in più per spiccare un pochino di più. Pensi di farli già quest'anno? Sì. Allora ti aspettiamo. Allora ti aspettiamo. Va bene, Filippo, come vedi, tempo è tiranno. Qui per non farmi sbagliare, che sanno che un vecchio babbione come me poi si allunga inevitabilmente, mi mettono il tempo, come vedi. Ora ho già sforato. No, ti ringrazio. Bocca al lupo, complimenti per ieri, insomma, quello che farai poi, c'è un appuntamento particolare per questo 2022 che ti aspetta. Ma quest'anno proviamo ad andare sempre in posto più avanti dell'anno scorso. Senza, e quindi va bene, mi sembra di capire, qualificarsi per il campionato italiano. Certo, certo. Va bene, grazie Filippo Sodini. Grazie a te. Noi ci fermiamo per la pausa pubblicitaria, quando torniamo avremo un atleta del gruppo podistico Parco Alpiapuane, Gianfranco Ciccone, con noi. A tra poco. Allora, eccoci tornati per questa tredicesima puntata stagionale di A Tempo di Atletica. Vado a salutare, credo per la prima volta su questi schermi, l'atleta del gruppo podistico Parco Alpiapuane, team Ecoverde del presidente Graziano Poli, Gianfranco Ciccone. Buonasera Gianfranco. Ciao, buonasera. Che arrivi, e ti devo ringraziare perché non sei arrivato proprio da dietro l'angolo, non da lontanissimo, lì da Prato. Da Prato, quindi ci è venuto per venire qua, insomma, non tantissimo, però insomma. Vabbè, questo ti ringrazio, ti ringrazio, ti ringrazio doppiamente. Senti, allora, parliamo un po' di Gianfranco Ciccone, poi avremo anche qualche notizia legata alla vostra squadra, eh? Sì. Sono notizie molto, molto belle, interessanti anche proprio nelle ultime ore. Allora, Gianfranco Ciccone, come nasce atleta, ma soprattutto è uno, Gianfranco Ciccone, che lo sport ha sempre fatto. L'atletica non è stato il tuo primo sport? No, no. Inizio a giocare a calcio da ragazzo, in pratica. Come tanti, diciamo. Come tanti, sì, sì, infatti. Nelle Poggiaccaiano, nelle giovani di Poggiaccaiano. E tu lo sai di Poggiaccaiano o di Prato? Prato, Prato. Poggiaccaiano è lì, però. È lì vicino proprio, sì, infatti. E quindi fino all'età di 30 anni ho giocato poi a livello amatoriale anche. Dopo ti sposi e quindi man mano scali sempre con lo sport, se non che poi inizi a correre a piedi per amicizia. Tu correvi con qualche società locale, mi sembra di capire. Con la podistica pratese, sì, per 10 anni. Quindi inizio per amicizia, dopodiché la telefonata. Inizio che vuol dire che altri amici ti hanno potuto, andiamo a correre, no? Sì, sì, sì. E lì si comincia. Sì, infatti. Anche se quando giocavi a calcio la corsa non ti mancava. Sì, no, giocavo a centro campo, quindi correvo anche lì tanto nel mezzo al campo. Però lo sport del calcio è una cosa e il podismo è tutto un'altra. Infatti le prime corse che ho fatte a piedi ho patito tantissimo a correre, a portarli in fuoco. Stai dicendo, ora poi i calciatori all'ascolto e quelli del calcio si non ridiranno. Stai dicendo che si dura più fatica. Eh sì, 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 sì. È vero, è vero. Comunque si inizia tanto per passione, per poi ad arrivare ai primi podi, alle prime soddisfazioni. I primi risultati tangibili. C'è voglia di crescere e di fare in pratica il salto di qualità anche come società. E dalla podista pratese andai all'Atletica Prato per un anno. Dopodiché mi chiamò il presidentissimo Graziano Poli. Guarda che lui ci segue, parlane bene stasera. Graziano, no, ma gli farlo bene, gli farlo bene, lui lo sa. No, sto scherzando. Gli farlo bene, lui lo sa. Ma tu conoscevi già, a parte Graziano Poli. Sì, 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 la società era ben conosciuta, la conoscono tutti, perché è una società con tantissimi ragazzi che arrivano sempre a vincere, quasi sempre, e se non vincono arrivano sempre lì vicino per vincere. Quindi mi chiamò due anni fa e quindi io ben contento di andare in questa prestigiosissima società, però dopo il successo, purtroppo ancora se ne sta pagando le conseguenze, la pandemia. E tu il primo anno in cui veramente hai corso per Alpiapuane? Noi tra poco, Gian Piero Pucci ci proporrà anche alcune foto che ti vedono in azione con la maglia bianco-verde, è stato il 2021 il primo anno in cui veramente hai corso. Le gare che si potevano fare, sviluppare, erano solo i cross, Fidal, perché le classiche gare settimanali erano tutte annullate. No, questo va bene. Tanto Pucci ci ha proposto un Francesco Guerra di cui poi parliamo, Ciccone adesso lo vediamo, no vabbè, perché Francesco Guerra, grande atleta, dobbiamo dire. Sì, sì, grandissima. 2021 quindi cosa hai corso in prevalenza, campestre o anche strada? Le prime gare tutte cross, dopodiché campestre, dopodiché ho fatto la prima gara vera e propria, quella lì del Ghibellino, una bellissima gara di 20 km fatta a Massecozzile, dove arriva il secondo veterano. Dopodiché, dopo qualche settimana, il famoso San Pellegrino, dove... Credo che le foto che vediamo probabilmente si riferiscono proprio alla famosa scalata, ma l'avevi mai fatta la scalata San Pellegrino? L'avevo fatta l'anno scorso, virtuale. Ma prima l'avevi mai fatta? No. Tu avevi fatto quella virtuale nel 2020? Esatto, arrivi bene. Nel 2021 proprio l'hai fatta. L'ho fatta proprio come si deve fare. E com'è a proposito di fatiche? È tanto, tanto dura, perché sono quasi 12 km con un dislivello di 1100 metri. Tu l'hai vinta nella tua categoria? Sì, veterano. Arrivai 11esimo assoluto e primo veterano. Accidenti, anche con un bel tempo mi risulta. Sì, un'ora e 07. E quindi grazie a questa vittoria mi ha consentito di vincere questo bel premio che io si tenevo tanto, l'Iglander, che raggruppa tre gare. Infatti vediamo, questo è il momento della tua vittoria. 1,07 complimenti. Sì, non credevo di arrivare in vetta e di vincere perché c'erano atleti della mia squadra molto, molto fortissimi, insomma, molto, molto forti. E quindi pensavo di arrivare primo. Invece, man mano che si saliva, vedevo che quei di dietro rimanevano dietro e quindi sono arrivato davanti. Qual è stato il momento più difficile della scalata? Ma allora, il momento... Il bosco, quando si passa da Chiozza. Il bosco iniziale perché... Gli ultimi due chilometri, compendenze terribili. Allora, gli ultimi due non ne parliamo perché non credo siano da... Non sono gestibili per la salita che è. Sanno qualcosa anche i ciclisti dei tempi del Giro d'Italia. Sì, e ne ho passati i ciclisti in salita perché anche loro durano tanta fatica ad arrivare in vetta. E se si fermano possono venire a piedi invece di bicicletta. Però se c'è un momento più difficile che hai... Nel bosco, per me personalmente il bosco perché sì, in pratica il secondo chilometro, perché il primo chilometro scendi. Poi il primo chilometro è dentro il bosco. Non sono proprio da bosco io, sono più da strada e quindi ho patito lì. Hai patito proprio il terreno, la conformazione del terreno. Sì, sì. Poi si sbuca a Chiozza e poi... Esatto. Da lì la conosciamo. Dentro il bosco, chi non l'ha fatto lo conosciamo come noi. Cosa possiamo dire del record di Gaillardo di 52 minuti? Ma non lo so perché... E dello stesso Presidente che lui la corsa a suo tempo in 55... È passato a qualche altra parte perché non c'è verso. 52 minuti, fare la gara che ho fatto io... Non è assolutamente... Non te lo spieghi. Non c'è verso. Nessuno me lo può spiegare perché un'orezzata... Ma pure così è... 52 minuti, no, ci credo, ci credo. Però 52 minuti o il Presidente stesso che ha fatto 52 minuti... Il Presidente mi si è preso qualche scorciatore. Senti, adesso Gian Piero possiamo mandare invece la foto del nostro grande amico per il quale facciamo, devo dirlo, un gran tifo, Francesco Guerra. È stato qui da noi qualche tempo fa. Tanti complimenti al ragazzo che ci sta facendo veramente divertire. Questo momento è un po' il fiore all'occhiello della sua. Eh sì, sì, ci dà tanta soddisfazione perché sta facendo record su record. No, ricordiamo l'altro ieri a Stoccolma, al meeting indoor di Stoccolma in Svezia, Francesco si è migliorato ancora e quando uno si migliora è già tanta roba, signori. I 3.000 metri indoor in 8.07.95, si è migliorato di circa due secondi, che non sono pochi. E adesso domenica, come mi confermava questa mattina il Presidente Poli, domenica pomeriggio tra l'altro noi saremo qui in servizio, quindi vogliamo seguire la corsa e darvi subito domenica sera, speriamo un bel risultato. Francesco Guerra correrà i 3.000 sieppi, campionato italiano promessa ad Ancona. Io credo, no? Non so adesso Gianfranco se è il caso di sbilanciarsi o meno, ma diciamo con possibilità di ben figurare. Ah tantissima, sì sì, sicuramente il ragazzo sta veramente facendo dei salti di volta in volta incredibili. Quindi ci dà tanta soddisfazione, come ho detto prima. E avere un'atleta così, certamente. E diciamo che ripaga anche tutti gli sforzi che fanno soprattutto il Presidente Graziano, Paola, il Direttore Sportivo, non ne parlavamo prima. Esatto, qui spendo due parole per loro, perché se siamo una famiglia, perché 200 atleti, 200 ragazzi, metterli tutti insieme, e non tutti qui della Lucchesia, ma come ben sai, insomma, anche in altri posti dell'Italia, ci vuole, bisogna essere, bisogna essere, bisogna avere veramente un'organizzazione proprio alla base, e lui con Paola e con Paolo, il Direttore Sportivo, hanno creato questa famiglia che a tutti danno veramente, la loro passione che hanno, la trasmettono a tutti noi che tutte le settimane... Diciamo, dall'atleta in questo momento più importante, insomma, più rilevante come Francesco Guerra, fino all'ultimo. Esatto, esatto. Loro mettono alla partenza tutta la squadra, tutti al solito pari, e quindi ci fanno sentire sempre molto importanti, oltretutto nell'arco dell'anno, che non tutti passiamo 12 mesi sempre ad alti livelli, loro quando sanno che magari qualcuno ha un infortunio, oppure non passa un bel momento, non fa mancare mai la sua telefonata per sentire il suo apporto, se hai bisogno di qualcosa, quindi veramente grazie di cuore a queste bellissime persone che tengono sempre in vita una società sempre più numerosa, perché già nell'acqua di un anno eravamo a 170, siamo a 200 adesso, quindi cresciamo sempre. Dobbiamo sottolineare, abbiamo tanto di foto, anche l'ottimo risultato è il ritorno a buoni livelli di Vincenzo Agnello alla 5 Mulini, la 5 Mulini sappiamo che è una delle corse più prestigiose, non solo a livello nazionale, ma anche internazionale, e Vincenzo Agnello davvero si è comportato in maniera ottimale, quindi anche a lui un bel ritornato, uno di quegli atleti che non sono proprio di Lucca, ma che tengono alto il nome del gruppo podistico Parco Alpiapuane. Ricordiamo poi che fra due settimane a Castelfiorentino il gruppo podistico Parco Alpiapuane darà l'assalto al dodicesimo titolo regionale consecutivo di Corsa Campestre, tanto che tu hai prima fatto un paragone insomma con una società calcistica, con una grande squadra di calcio, come hai detto che l'Alpiapuane è un po', anzi direi anche meglio, l'Alpiapuane, io quando mi chiamo Graziano, lui lo sa, l'ho sempre definita un po' la Juventus del calcio, quindi ero ben contento di far parte di questa società che a tutti fa veramente piacere indossare questi colori che… Con orgoglio direi, con orgoglio, sì. Senti, quali sono i tuoi, al di là di quelli che sono gli appuntamenti a livello di squadra, a livello di società, anche personali di questo 2022 che ha appena iniziato, tu che preferisci la strada diciamo? Esatto, esatto, io ho un cruccio che è quello della maratona, che l'ho fatta diverse volte e mai preparata per bene. Ah ecco, allora… Non ho mai preparato per bene, infatti mi ha sempre sfuggito qualcosa. Quindi vorresti fare una maratona, l'hai già individuata? Sotto le tre ore. L'hai già individuata? Sì, ho un Milano che mi sono già iscritto insieme a degli amici, siamo un gruppo… Quando è a Milano? Il 3 di aprile. Ah, il 4 di aprile oltre stesso aspettiamo, che Graziano Poli è molto sollecito, aspettiamo un Gianfranco Ciccone sotto le tre ore. Sotto le tre ore, il che non è facile. No, l'abbiamo sempre… Siccome vedono, keep coach, questa gente qui che corre sotto le due ore, ma ragazzi, già arrivare in fondo alla maratona, e già farla sotto le tre ore, credetemi, è un grande risultato. Ah sì. Come vedi il tempo è corso via tiranno, io è con grande piacere che ti ho ospitato all'interno di A Tempo di Atletica, so che anche se abiti a Prato, insomma, ogni tanto ci segui, questo ci fa piacere, eh? Sicuramente, sì, sì. Va bene Gianfranco? Bocca al lupo per la tua attività, come anche personale, so che hai un'attività anche di un certo livello, per i figli, la famiglia e tutto quanto, la famiglia tua e la famiglia delle Alpi Apuane. Sicuramente, grazie a voi. Grazie a te, grazie di essere stato con noi, si chiude qui questa tredicesima puntata stagionale di A Tempo di Atletica, ringraziamo anche Gian Piero Pucci, noi torniamo come sempre lunedì prossimo alle 21, ci sarà una puntata monotematica, in quel caso dedicata tutta alla Virtus Ducca. Grazie e buonasera. Grazie a te, grazie a te.